Per la prima volta sono su Bloxfruit ragazzi ho visto che molti di voi non conoscono questa modalità un po' strana lo posso ammettere però poteri strani Ok quello che voglio fare oggi è quello di trollare qualche player se riesco perché la situazione è che io sono livello 422 e non so quante persone ci siano qua esattamente Voglio provare a trovare un player e mi fingerò un nabbo che effettivamente non sono tutta questa potenza ho un milione di soldi ok va bene però in realtà sono abbastanza scarso Voglio vedere se esco ecco c'è qua già qualcuno con calma è tipo dal negoziante weapon delivery ciao ok è del team nemico calmo calmo ok no ok non mi cava assolutamente Niente scarso forti questo ok mi devo fingere mi devo fingere nabbo prego ok gli attacchi speciali ce li ha cerco di schivare amico mio ti prego Ok 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 lo devo far ragionare un attimo fermi fermi ciao vengo in pace Ok lo devo convincere che sono nabbo dai si direbbe che sono abbastanza nabbo ok magari disattivo il mio unico coso di combattere ragazzi Ehi a parte che ho dei frutti del mare qualcosa ce l'ho ma sono full combattimento corpo a corpo e non mi ne frega niente sono potentissimo Ah aia 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 perché non ti fai ammazzare nulla è che Mi devo mettermi scusa laggo Quando c'è qualcosa di strano dite sempre che laggate quando vedi volare una persona lui lagga no non è che sta usando i cheat Sì sì come no sei nuovo per caso calmo 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 Sì non ho niente neanche un frutto otto negnuno per caso Ah 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 non c'è molto da ridere ti sta chiedendo aiuto Teoricamente messo bene c'è una doppia spada No ah no no per tua fortuna una bet aspetta ma io voglio provare Allora non mi devo far vedere che sono forte quindi magari questa qua sta roba che è leggendaria Usiamo la katana normale Sono anche più figo così Però se vuoi ti posso dare una mano Ok quindi è gentile Ma lui non prende danno Non prende danno dalle spade Ok Ah solo una spada Eh sì non è molto mi dispiace Io ne ho due Eh sì non tanto che ne hai due Che credi di fare Vuoi tagliarmi? Sì è fatto di fumo Ha il frutto del mare che lo rende di fumo immune le spade Aiaiaia io no Accidenti fa malissimo Vuoi tagliarmi? È impossibile Ok senti un attimo che poi dopo un po' di soldini qua Grazie L'ho preso Smettila Ok ok Vieni con me che ti aiuto io Ok Ok mi vuole dare una mano a un po' di iniziare Vieni vieni Perfetto perfetto Suppongo che andremo a fare tipo Oh Ah la na No questa è la sua Quanti soldi hai speso per sta nave esattamente Scusa Scusa Quanto costa questa nave? Credo che sia quello più costoso Ti piace la mia nave? Sì sì tantissimo Eh è un abbetto? Credo che sia quella più costosa Fatemi controllare Bot dayler Questo è quello che ti dà le barche Io ho la scialuppa quella gratis La mia è quella Io 2000 Alla brigata credo Questa la potrei prendere tra un po' Eh sì Io ho questa Io ho questa Ti piace? Quella è la tua Oh Mi vuole discriminare solamente perché ho la barchetta Ho la barchetta di legno Questa arriva uno tsunami mi mangia Sali sulla mia Ok Chissà dove mi vuole portare Credo fare una questa roba del genere Ok mi ha portato praticamente nella giungla Abbiamo parcheggiato la nave lì Ah mi vuole far farla questa Sì è tipo una di quelle base Scimmia Vabbè Credo che andrò a fare con le scimmie Tutto fatto Ok Andiamo Andiamo a un abbetto Ok Un abbetto Adesso sarà un attimo un problema Ah Ah lui non farà niente Neanche coi pugni Ok Devi sconfiggere loro E per lui è un gioco da ragazzi Accidenti Ok Devo far fuori le scimmiette Andiamo Andiamo Qua c'è un'altra scimmietta Devo Devo C'è un problema In questa maniera Io gli ho tirato un calcio Eh Eeeh E di Come io lo spiego Ho scelto le scimmie Come Eeeh Che hai fatto Questo I prendi per il Linguaggio amico mio No si è che ti ammazzo No no è che è un frutto del mare in realtà Aaaaa E' un frutto del mare Il 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 danno danno Si si chiama danno danno Il mio frutto del mare Mi permette di far Boom Mi permette di far 10 miliardi di danno Mi colpire però E dirlo prima Si adesso fa simpatico Mi permette di fare Con il numero Danni a colpo Dai continua a fare le scimmie Cos'è un bug No 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 E' un frutto E' un frutto E' un frutto Tranquilli Allora facciamo un attimo Le scimmie Tanto Pam Pam Ok non devo fargli vedere La mia potenza Ma se Pam Già fatto Finito Sono stato bravissimo Aia Ma perché mi picchia Ok finito Adesso cosa faccio Ah la sua mano scivola Sicuramente Non è che mi sta colpendo Lo fa apposta Ok adesso andiamo dal gorilla gigante Che se sei così Ok 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 Da che parte stai Esattamente Stai sono molto più avanti nel gioco Di sto punto Così fai più veloce D'accordo Qua c'è un tizio Amico mio Tutto a posto nella vita Non guardare il muro Non fare il depresso E nulla E volevo rimanerli Arrivo 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 Ci sono ci sono ci sono Ok suppongo che questo sia tipo il gorilla gigante Che devo far fuori Non ho preso neanche la questa Ok vai Ammazza Ok Tipo Aia Oh no ti prego Non farmi del dolore Aiuto Dolore intenso Dolore intenso Ai 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 Eh È presa la quest No 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 Wow Sono forte Guarda qua che roba Da male Perfetto vai allora Sei già pronto Eh cosa devo fare Cosa devo fare Continua a fare le quest Io non voglio fare le quest Ma se io lo picchio Ma se ti dico che in realtà Sono tipo mega pro player Già che ci sei Ok Perché non mi fa vedere Un'abilità del fruit Eeeh Il danno Il danno su Eeeh Ok 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 calmo con le spade D'accordo Eeeh Eeeh Che dici Ma Eh Eeeh Esa Potete furto giù Che non è l'acchi dell'armatura Quello è l'acchi No 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 È il frutto Che cacchio dici No 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 È il frutto Guarda 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 Visto Visto faccio tanto danno Perché faccio più danno Visto Mi vuoi prendere in giro Eeeh Eeeh Sì In realtà quello è il mio obiettivo Fin dall'inizio Pensi che sono uno scemo Sì O fare ammazzate No ti prego No ti prego Eh bimbo Nabbo No si è arrabbiato Mi sta colpendo Quell'abilità No ti prego Non mi picchiare Scimmia Ti prego Ma cosa vuole fare Pensi fartela Con uno più forte di te Eeeh Sì È tipo Oh no Cavolo Accidenti Ma sei potentissimo Rispetto a me Ma c'è la scimmia di mezzo Ok Ah no Accidenti Ah perché non combatti Eeeh Perché ti è fallito Oh no Ti prego Ti prego Ok Ok Aia Aia Ok E non mi sa che non lo riesco a colpire No non lo riesco a colpire Io lo avrei già dovuto Shottare E non lo shot C'è il frutto del mare C'è il frutto del mare Del fumo Questo Ok C'è un modo C'è un modo per me per colpirlo Anche se è il frutto del mare Ah chi Come la mettiamo In due colpi L'ho fatto fuori Di tipo Due miseri colpi Adesso lui respawner Era di là Lo voglio andare a trovare Fermi E qua è molto arrabbiato È molto arrabbiato Tipo Ciao Eeeh Due colpi Mi sono bastanti Esatto Pensi realmente di battermi così Beh in realtà l'ho già fatto Quindi non è molta differenza Adesso gioco serio Io bambino Ah 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 Ma io posso rimanere anche qua Tanto Ah no Aiuto Ok Credo che vuole che gioco sul serio Ok Ok Adesso gioco sul serio anch'io Wah Che mosse Inca Ok Potenziamento Calcio Potentissimo Perché non conosco il nome Ok 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 Mi sta colpendo Mi sta colpendoci E non c'è voluto tantissimo Adio scimmia E me la prendo anche con le scimmie Cosa? Ritorna qua Salve Perché l'ho già shottato Amico mio Ok che non ti faccio niente se non ho lucky Ma lucky ce l'ho quindi Sei buono per uno start Ma è inutile che provi a danneggiarlo Ci sta provando Si sta impegnando in tutti i modi Sì Vuoi essere il prossimo che shottaro come quella scimmia? Ah non posso buttare giù però gli alberi Lui si Ok Signore Ma perché non muori E sono troppo potente Ho l'acchi della natura di quarto livello Quinto livello Non mi ricordo in realtà Pensi di essere più forte di me Ti stavo trollando Sono il livello 422 Lui sarà tipo 100 qualcosa Cioè è un quarto della mia potenza Amico mio Cosa? Eh sì Ti stavo prendendo in giro da tipo Dall'inizio Sono tipo 15 minuti Che ti sto prendendo in giro Sei serio? Sì Guarda Visto? Metà vita No vabbè Hai vinto Sì adesso schiatti Ciao Ok direi che mi sono divertito abbastanza trollarle Sciotto un attimo la scimmia Ciao Ok no Effettivamente al momento sono abbastanza forte C'è gente come lui non riesce a fare assolutamente niente contro È stato divertente trollarlo Prima sfoggiare tutto quanto sia forte La nave Quella Fatemi sapere nei commenti se gli devo dare magari per un'altra volta Un frutto del mare Qua ne ho tre Lui ha già quello del fumo Che non è male per gli inizi Però tipo io c'è quello bomba Quello falcone Che è raro se non erro Comunque qualcosa c'ho Quindi gli potrei dare qualcosa di interessante Fatemi sapere Fatemi sapere Fatemi sapere Fatemi sapere Fatemi sapere Grazie a tutti.